Adesso procediamo con Marinette Pendola, che chiude la sezione di lettura in italiano e leggerà anche una traduzione francese. Sono Marinette Pendola, autrice di quattro romanzi editi da Arcadia. È un onore per me essere qui e ringrazio per questo Pina Piccolo. Ho scelto Irina Shubalova, la cui apparente semplicità tocca la mia sensibilità di scrittrice. Leggo alcuni brani poetici nella traduzione dall'inglese di Pina Piccolo. La prima, ecco che aspetto ha una faccia. Ecco che aspetto ha la faccia di mia figlia, quando sta per dire mamma, hai letto il notiziario? Mamma, è guerra. Ecco che aspetto ha la faccia di un adolescente coreano che chiede, prof, sta bene? Che chiede, prof, come stanno tutti a casa? Che chiede, prof, è il ventunesimo secolo, ma che cazzo? Febbraio. Avevamo programmato di superare febbraio come qualsiasi altro mese, solo più breve. Attraversarlo come si guada un ruscello, giorno dopo giorno, pietra dopo pietra. Starsene, dopo averlo attraversato, sulla sponda verde della primavera. Ma invece il fiume rugisce e ci afferra per le gambe, questa spuma rossa e scivolosa di un febbraio furioso. Nel buio, fino alle ginocchia, ci affrettiamo a costruire zattere. I nostri pantaloni arrotolati si appesantiscono, inzuppandosi di acqua, o forse di trionfo, o forse di morte. Il tuo. A prima vista, ogni casa bombardata nella foto ti sembra la tua. Ogni bambino che dorme nella metropolitana di Kiev, al volto di tua figlia. Gli aggiornamenti dei notiziari non succedono a noi. Succedono a noi. La donna nella foto che, disperata, con il palmo della mano, copre la bocca con torte piangente. Non conosco questa donna. Conosco questa donna. Un panino. Vicino al fiume, un panino tra le mani, fingo che la morte non esista. La primavera sta arrivando ronzando sui susini. La primavera sta arrivando. È già primavera, Nanchino. I convogli si stanno dirigendo verso Kiev, convogli militari. Sul fiume, un panino tra le mani, faccio finta che la morte non esista. Ma la morte sta arrivando e la morte ronza. Sui susini, sui ciliegi e sulle mele cotogne, il pungiglione spietato delle api metalliche. La primavera sta arrivando. È già primavera, a Nanchino. I convogli si muovono verso i convogli militari di Kiev. Leggo le notizie e piango direttamente nel mio panino. E ora la mia traduzione in francese della poesia Chi è poeta non può scrivere di guerra. Chi è poeta ne può scrivere di guerra. Ni victime, ni participant, ni défenseur, ni observateur, ni étranger. Qui donc? La guerra ha donnait a chacun son rôle. Quel è il tue? Te couvrir la bouche avec la paume de la main? Écris, écris! La demoiselle qui ne peut retenir sa langue s'est soudain tue, lorsque le moment è venu di parlare. Ma che può dire quando, partout là-bas, tutto hurle. Sirènes brillanti, fumée crepitante vers le haut, roue di chariots a bagage grinçante, boucho tordue di fenêtre en ecla, tutto hurle désespéramente. È il t'è crio. Je peux entendre des explosions allentour, les enviots qui survolent. Tu ne sais que répondre. Grazie. Grazie, Marinette. Con Marinette si conclude la sezione in italiano di questa lettura.